buongiorno oggi faccio la pasta alla norma oppure ci tento perché non seguirò proprio magari il disciplinare vero e proprio della ricetta però la faccio a modo mio adesso vi faccio vedere gli ingredienti e il procedimento innanzitutto mi sono tagliata una parte della melanzana di queste viola molto molto sottili vedete e le friggerò in olio di semi devono essere belle croccanti e sottili poi mi sono tagliata anche una parte di melanzana a dadini e friggerò anche queste nel frattempo che le melanzane friggono stanno friggendo mi preparo un bel sughetto fatto con i pomodorini freschi anche anche se uso la padella un poco graffiata vabbè ho messo sulla carta assorbente delle melanzane che ho fritto quelle sottili sottili perché devono essere bene bene asciutte nel frattempo sto friggendo queste quelle tagliate a pezzettini e mi sto facendo anche il sughetto adesso metterò un po di sale sui pomodori un po di origano allora ho messo sulla carta scotex anche queste melanzane tagliate a pezzetti e nel frattempo il sughetto sta andando avanti come vi ho detto messo sale e origano il sughetto è pronto come vedete ci vado ad aggiungere le melanzane che ho fritto quelle a pezzettini nel frattempo mi vado a cattare un po di ricotta salata a metà cottura nella pasta verso direttamente la pasta nel condimento e lascio cuocere altri cinque minuti magari aggiungendo aggiungendo un po di acqua di cottura in questo modo la pasta assorbe tutto il sapore del condimento adesso vado a mettere due cucchiai di ricotta salata in modo che si forni una bella cremina adesso lascio sciogliere per bene la ricotta salata e vado ad aggiungere a questo punto una parte delle melanzane a pettine che mi ero che avevo preparato prima